In contemporanea con l'uscita nelle librerie, oggi vi parlerò di Come delfini tra pesce e cani, un'indagine per i 5 di Monteverde, di François Morluppi, edito da Salani. La squadra, capitanata dal commissario Ansaldi, si ritroverà ad indagare su alcuni morti sospette, a partire da un suicidio piuttosto ambiguo. Un commissario sui generis, goffo, insicuro e ipocondriaco, che però nel momento opportuno, lascia da parte tutte le sue innumerevoli ansie per sostenere e guidare i suoi sottoposti. Una squadra eterogenea, persone che con le loro diversità e le loro differenti attitudini arrivano a una complementarietà che le rende efficienti e capaci. Roma è uno sfondo evidente in queste immagini, Roma in contraddizione, bellezze antiche immerse nel traffico, luoghi meravigliosi in antitesi con degrado e oscurità. La si ama e la si odia così, fra luci e ombre, che a Monteverde porteranno una cerima battaglia per capire l'escursus di morti apparentemente slegate fra loro. La scrittura di François Morluppi è cristallina, non dipana semplicemente gli avvenimenti, ma li cosparge dell'umanità del singolo, delle paradossali situazioni che portano a momenti di tragicità, di umorismo e di riflessione. In una squadra che indaga sulla morte, le domande sull'esistenza prendono densità e profondità, intaccando gli animi per fortuna, perché abituarsi alla crudeltà dell'esistenza sarebbe la fine di qualsiasi speranza e di qualsiasi intuito. Certosino è il lavoro dell'autore che tocca diversi ambiti, dalla storia all'arte, e infrange il muro della finzione, introducendo personaggi talmente surreali da essere veri. Perché noi in fondo siamo questo, a prescindere dal lavoro che facciamo, che siamo un commissario assiolittico, o una vice fredda e guardinga, o una coppia di colleghi apparentemente male assortiti, ma in realtà inseparabili. Ciò che ci guida sono le nostre paure, il nostro coraggio e le nostre passioni, che dirigono il nostro destino nel bene e nel male. Vi ricordo ancora, come Delfini tra pesce e cani, un'indagine per i 5 di Monteverde di François Mollupi, edito da Salani. Non mancate, esce oggi e noi ci sentiamo alla prossima recensione.